Vado un po' sullo zoppo, sei te, 50 anni dopo secondo te come faccio? Quanti eri già combinati con la dieta? Questa per noi era via Bodoni, neanche villa Bodoni, sapevamo di stare in una villa straordinaria, Villa Liberty bellissima, sapevamo, però noi diciamo ci vediamo in via Bodoni, per noi questa era via Bodoni, viavamo in tutto questo primo piano ed era all'inizio tutti noi e all'ingresso c'era un tavolo e mangiavamo lì, si usciva dalle camere, era un po' caserma e abitazione. È iniziata una specie di catena di Sant'Antonio, non so chi è venuto, chi sia venuto per primo, ma si vede che stavano bene qua, trovavano una volta da dormire, una volta no, però almeno si era tra amici, noi eravamo il primo gruppo italiano per cui avevamo di che parlare con altri musicisti e venivano qua, poi spargevano la voce, uno arrivava, la porta era sempre aperta, permesso, oppure sorry, entravano, stavano qua e cose così, e poi si parlava, si conosceva gente, si ascoltava musica. Franco, Maurizio, Alfio, ti ho portato il latte e i panini, si mangia, si mangia anche io. Sono un tipo antisociale, non mi importa mai di niente, non mi importa dei giudizi, della gente. Qui è venuto, partiamo da quello forse meno conosciuto, un certo Georgie Fame, ero un cantante molto conosciuto dell'epoca, ho cantato Bonnie and Clyde, la ballata di Bonnie and Clyde, è venuto un signore con la barba che si chiamava Alan Ginsberg, è venuto una delle più grandi fotomodelle al mondo che era Donnie e Luna, con cui io diciamo che forse ho avuto una storiella, però era molto difficile avere una storia con lei, perché era un chiodo. Qui c'è stato Jerry Malanga, che era il fotografo socio di, manager di Andy Warhol, mi ha fatto parlare lui al telefono con Luriz, perché io volevo fare un pezzo di Luriz, e qui succedeva di tutto, tutti i giorni succedeva qualcosa. Qui mi telefonò un avvocato dicendo, Maurizio sei seduto? Dico, non sono in piedi, ecco, Alfio è andato in galera. E io dico, come? Eh, gli hanno trovato la sciscia, eccetera. Quindi, dato che vivi in una casa con la porta aperta, dai un occhio in giro. E mi ricordo che ho dato un occhio in giro e tutto quello che era sospetto l'avevo buttato fuori nella fontana con i pesci rossi, il giorno dopo i pesci rossi erano tutti a galla, quindi non ti so dire. C'era un signore che è venuto qua, che si chiama Jimi Hendrix. Jimi Hendrix non è che è venuto qua per stare qua, per dormire qua, per abitare qua. Lui è stato qua quattro, cinque volte, perché in questa casa invece c'era una ragazza di cui si era infatuato. Chi era? Che si chiamava Ines. Ma perché Ines era qua? Ma Ines era qua perché prima era stata fidanzata con Alfio, poi c'erano tutti degli intrecci, oggi magari ci si scandalizza più oggi che allora. Ecco, perché questo era il 68. Sesso, droga e rock and roll. Cioè no, era tutto, c'era una libertà, c'era una gioia che oggi non c'è più. Era tutto molto più facile, molto più sorridente, le donne sorridevano, le donne ti conquistavano, non avevano paura di nulla. C'era un sacco d'amicizia che proprio volava nell'aria. Questa poteva essere definita una comune? All'inizio era sicuramente una comune. Noi dormivamo ognuno in una camera, ci trovavamo all'ingresso in questa grande tavolata dove a luna si pranzava. C'erano delle regole quasi militari, insomma. Sì, poteva essere una comune. Per gli altri era la casa di quattro matti. In genere c'era hashish, marijuana, sembra che sia il menù di qualcosa. No, però c'era in giro, girava. Jimmy era venuto qua, si faceva delle canne lunghe così e poi le passava e diceva, ascolta, dato che le fai così, lo fai tu perché? È giusto. Noi venivamo dall'Ambrusco, sai? Ti sei fumato una canna rullata da Jimmy Hendrix. E la verità, no, non te la dico, può darsi, può darsi, però la fumavo quando finiva la parte grossa. Il 12 dicembre del 1969, la strage di Piazza Fontana a Milano, fu un evento che ha segnato uno spartiacque, cioè un prima e un dopo. E voi che vivevate la musica, l'arte, anche il divertimento di questi grandi cambiamenti, come avete vissuto questo momento così tragico? Beh, da lì fu tutta una serie di cose. Io mi spostai da qua e andai anch'io verso il centro e cominciai a vivere un po' più profondamente queste cose. C'era poca televisione che trasmette... Cioè, la vivevamo un pochino come se qua fossimo in campagna. Non era assolutamente vero, ero a Milano. Però dopo quando sono andato a abitare anch'io un po' più in centro a Milano mi sono reso conto che spesso volavano dei calabroni, che io dicevo calabroni, e non erano calabroni, erano proiettili. E stava cambiando tutto, era il 68. Grazie per la visione!